Ci sono dei consiglieri comunali i quali probabilmente quando abbiamo fatti i lavori stavano a casa loro oppure stavano mangiando la pasta e fagioli. Così si era espresso non più tardi di cinque giorni fa nello stesso luogo, ovvero la sala conferenze del comune di Avellino, l'amministratore unico dell'US Avellino, Walter Taccone, per replicare le accuse di utilizzo abusivo del partenio Lombardi, mosse dalla consigliera d'opposizione Francesca Diorio per via della querella relativa allo stadio cittadino tra debiti e crediti vantati in simultanea dal club e dagli amministratori di Palazzo di Città. Oggi la replica del consigliere di minoranza Giancarlo Giordano e della stessa Diorio nel corso di una lunga conferenza stampa, riassunta così dallo stesso Giordano. Il nostro obiettivo è innanzitutto quello di rispondere a chi è venuto nella casa comunale ad offendere rappresentanti istituzionali. Parlo del presidente Taccone che è venuto qui a dire che loro lavoravano e i consiglieri comunali mangiavano pasta e fagioli, mi pare. Nessuna questione personale, Giordano chiarisce l'importanza di diredare le zone d'ombra relativa ad una questione complessa e controversa per un principio di equità e rispetto delle regole per la tutela degli interessi collettivi. Noi siamo qui a ribadire che la nostra attenzione non riguarda solo lo stadio partenio, ma anche lo stadio partenio, riguarda tutte le strutture pubbliche da cui un'amministrazione ancora in carica purtroppo per la città ha detto di voler recuperare reddito. Se vuole recuperare reddito devi innanzitutto riscutere i fitti. Dura la stoccata nei confronti degli assessori Valentino e Preziosi, tacciati di aver permesso di screditare l'operato comunale, previo poi procedere ad azioni di tenore decisamente meno conciliatorio rispetto a quello mostrato al fianco del Patron dei Lupi. Una diffida di pagamento è stata già inviata all'Avelino Calcio negli ultimi giorni da parte dell'assessore Valentino, mi pare, dell'ufficio patrimonio per un importo di 803 mila euro. Allora è inutile che fanno le conferenze stampa dove sembra che va tutto bene.